Un ben ritrovato a tutti voi con la nostra informazione con l'hashtag NoPanic. Il Miura ha comunicato oggi le materie d'esame per la prossima maturità 2018. Greco per il classico, matematica per lo scientifico, finanza e marketing per gli istituti tecnici. Ci sono solo alcune delle materie che dovranno affrontare gli studenti che si siederanno sui banchi il 20 giugno per la prima prova di italiano che invece è uguale per tutti. Si tratta del primo rito ufficiale che apre il percorso che nei prossimi mesi vi condurrà verso l'esame, ha scritto il ministro all'istruzione Valeria Fedeli. Continuate ogni giorno a consolidare la vostra preparazione, ad archire le vostre conoscenze e competenze, non solo in vista della maturità ma come bagaglio da portare con voi lungo tutto l'arco della vita. Casale affila le armi in vista della presentazione lunedì prossimo a Roma della propria candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2020, la cui assegnazione è fissata per il 16 febbraio. La città piemontese concorre con Agrigento, Bitonto, Macerata, Merano, Nuoro, Parma, Piacenza, Reggio Emilio e Treviso. La presentazione della proposta che la delegazione porterà a Roma è stata fatta oggi in anteprima nella sala consigliare del Palazzo Municipale. Oltre a un sito internet ufficiale, parte del materiale con il quale Casale tenterà di vincere, è costituito dalla presentazione della proposta della delegazione e poi la presentazione del video promozionale realizzato dal videomaker Monferrino Stefano Viale Marchino da una rielaborazione del cortometraggio Anvis, vincitore del premio del pubblico al Monfilfest del 2016 e integrato dalle riprese realizzate lo scorso 23 gennaio, state proprio vedendo le immagini, al Teatro Municipale con la cittadinanza. Corposa la delegazione casalese che si arrecherà in audizione con in testa il sindaco della città Titti Palazzetti. Il Codacon si invierà un esposto alle procure di sei capoluoghi piemontesi colpevoli di non adottare misure drastiche in tema di inquinamento dell'ambiente. Un'emergenza che ieri ha scomodato anche la Commissione europea che ha ricevuto i ministri di nove paesi membri a rischio di finire davanti alla Corte di Giustizia. A 24 ore dalla convocazione a Bruxelles dei ministri all'ambiente dei nove stati membri colpevoli di inquinamento in Piemonte, tra le regioni italiane portabandiere di malaria, spunta il Codacons che nei prossimi giorni presenterà alle procure competenti un esposto nel quale viene chiesto di valutare il commissariamento di quei comuni che secondo l'associazione stanno facendo orecchie da mercante a un'emergenza che si sta facendo sempre più grave. Sott'accusa alle realtà amministrative che nel corso del 2017 hanno continuato a sforare i limiti annuali di polveri sottili nell'aria mettendo, si legge in una nota del Codacons, a rischio la salute della popolazione. Nel Merino ci sono Alessandria, Torino, Biella, Novara, Bercelli e Asti colpevoli di aver superato il limite massimo annuale di 35 giorni di sforamento dei 50 microgrammi per metro cubo. Il Codacons chiede, a chiare lettere, che venga avviata un'inchiesta sulle responsabilità e presenterà un'istanza ai prefetti dei sei comuni fuori legge in cui si chiede di valutare il commissariamento delle amministrazioni a fronte della manifesta incapacità di garantire la solubrità dell'aria. Una presa di posizione che comunque non si discosta molto dall'opinione dell'Unione Europea che sta minacciando sempre più pressantemente il nostro Paese di dover ricorrere alla Corte di Giustizia. Ieri il commissario all'ambiente, Carmen Uvella, ha schierato in Parlamento i ministri dell'ambiente di Gran Bretagna, Francia, Italia, Germania, Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Ungheria. Una riunione non certo di piacere dove il maltese ha detto a chiare lettere che il tempo è scaduto e che non saranno tollerati altri ritardi. Da parte sua il ministro italiano Gianluca Galletti ha presentato il pacchetto di misure predisposte nel nostro Paese dove spiccano fra tutti il piano anti-smog siglato dalle regioni della Valpadana che mette i paletti sui limiti entro i quali le varie amministrazioni locali sono obbligate ad attuare i blocchi del traffico e il cosiddetto decreto caldaiette che ha dato il via libera allo stanziamento di 900 milioni di euro per l'efficienza energetica delle caldaie con un incentivo fiscale pari al 65% per chi decide di acquistare un nuovo impianto meno inquinante. Misure che però non chiudono la bocca di legambiente Greenpeace disse che in maniera unanime chiedono interventi più drastici ed efficaci. La Commissione europea stima che in Europa ogni anno sono 403 mila i decessi prematuri imputabili all'inquinamento dell'aria e di questi 60 mila si registrerebbero nel nostro Paese. Parliamo adesso di cyberbullismo perché il Piemonte ha ora la sua legge di prevenzione e contrasto contro un fenomeno purtroppo in costante crescita. Alessandra Della Cà Una legge necessaria, quella contro il cyberbullismo, entrata in vigore lo scorso 18 giugno e che ora vede in Piemonte uno sviluppo ed un primato. L'istituzione del patentino regionale per l'uso della rete e dei social network e di centri specializzati di cura per i disturbi da episodi di bullismo e cyberbullismo. La regione Piemonte sarà dunque la prima in Italia a dotarsi di uno standard formativo per tutti i ragazzi e ragazze che frequentano le scuole piemontesi. I centri specializzati dovranno individuare dei percorsi di sostegno e cura specifici attraverso equip multidisciplinari. La legge è stata approvata a Palazzo Lascaris e ha come primo firmatario Domenico Rossi del Partito Democratico che l'ha dedicata a Paolo Picchio, padre di Carolina, morta suicida nel 2013 a 14 anni, per il cui caso la Procura dei Minori di Torino ha intentato il primo processo in Italia per cyberbullismo. Il provvedimento, frutto dell'unificazione di due proposte presentate rispettivamente dal gruppo PD e dall'ufficio di presidenza del Consiglio, stanzia 200 mila euro l'anno per finanziare azioni a sostegno delle vittime ma anche per la sensibilizzazione degli autori delle violenze. Secondo l'indagine di Generazioni Connesse, un ragazzo su dieci in Italia è vittima di cyberbullismo. Tra questi, l'11% ha tentato il suicidio e il 50% pratica autolesionismo. A non votare l'atto, la consigliera regionale della Lega Nord, Gianna Gancia, che ha commentato come una legge regionale per contrastare il cyberbullismo sia necessaria, ma essa da sola non riuscirà nel suo intento se non verranno applicate pene severe senza alcun tipo di sconto. La norma è stata approvata in modo unanime anche grazie al supporto del Movimento 5 Stelle, per aver manifestato perplessità iniziali, ha affrontato il percorso e il dibattito e stesura in modo collaborativo. Condannati per un operaio morto folgorato a Tassarolo. Quattro anni complessivi in abbreviato per due dirigenti Enel violarono le misure di sicurezza. Ci racconta questa storia Emma Camagna. Il castello accusatorio arretto a uccidere l'operaio Novruz Rucci, 45 anni Acqui, folgorato su un traliccio dell'Enel in via Sant'Ambrogio a Tassarolo, il 9 maggio 2013, non fu una fatalità. È morto per colpa di chi ha tenuto un comportamento negligente senza rispettare le misure di sicurezza nel predisporre il lavoro a lui affidato. Il gruppo di Alessandria Paolo Bargero ha condannato così a due anni di reclusione ciascuno in abbreviato, Claudio Sura, legale rappresentante della ditta incaricata di effettuare l'intervento ed attore di lavoro di Rucci, e Angelo Castro Giovanni alle dipendenze di quella ditta e alla quale era stato affidato il compito di coordinare l'intervento stesso. Accolto in pieno le richieste del PM. Gli imputati devono anche risarcire i familiari della vittima. Per la procura pure Luca Raimondo, responsabile della Marco Area Territoriale Nord-Oves della società Enel Distribuzione, committente dei lavori in cui era impegnata la vittima, è colpevole di quel mortale importugno. È stato rinviato a giudizio, processo 29 giugno. Rucci doveva sostituire un cavo elettrico della bassa tensione sulla linea di Tassarolo, perché Enel Distribuzione aveva constatato una dispersione di energia. Per l'accusa sulla base della perizia tecnica che ha riscontrato numerose violazioni, la riparazione fu fatta senza mezzi di protezione e precauzioni adeguate. Un'altra vittima del monossido di carbonio in provincia di Alessandria si tratta di Maria Teresa Gobbo, di 61 anni, originaria del Cuneese. Si trovava da qualche giorno a Spigno Monferrato, in via Valla, e si era stabilita al primo piano di una villetta. La tragedia è accaduta ieri sera. Sono stati i vicini di casa, che abitano al piano superiore, a dare l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli altri soccorsi, ma per la donna non c'era più nulla da fare. Si ipotizza un malfunzionamento della stufa. Il magistrato deciderà se disporre o meno l'autopsia sul corpo della vittima. Due sedute del Consiglio Comunale di Ovada per approvare in tempi brevi il bilancio di previsione 2018. Il Comune non perde tempo e anticipa la discussione di oltre due mesi rispetto allo scorso anno. Si tratta di un record positivo per poi poter affrontare qualsiasi problematica più rapidamente. Sentiamo Fabrizio Mattana. Approvare rapidamente il bilancio per poi avere più tempo a disposizione per i lavori pubblici. Questa è la ricetta del Comune di Ovada per aver ben chiaro ciò che c'è da fare e poterlo realizzare in tempi brevi. La cifra stabilita per il pareggio è di 12.793.255 euro. Si prevedono 2.279.106 euro di spesa per i rifiuti considerando la situazione attuale basata sull'Atari e in attesa del porta a porta. 763.000 euro per le politiche sociali, poco più di un milione in conto capitale per i lavori pubblici mentre l'avanzo di amministrazione potrà essere utilizzato per il restyling del secondo tratto di Via Torino e per la riapertura del teatro comunale, tenendo conto anche delle entrate che si potrebbero ricavare dalla vendita dell'ex stazione ferroviaria di Piazza Castello. Ma a complicare le cose c'è l'imprevisto della voragine di Via Gransci. Questo sarà un intervento molto gravoso per le casse comunali. Si parla di circa 350.000 euro, senza contare che prima di dare il via ai lavori sarà necessario espletare numerose pratiche burocratiche, anche solo per poter pulire tutta la zona, eliminando le erbacce per avere la possibilità di un'osservazione più approfondita. Pertanto molte risorse in bilancio saranno destinate a questo intervento. Se ne è già parlato in Consiglio Comunale, infatti le due sedute di questa settimana presentano anche altri diversi punti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del bilancio fra i principali, tassa sui rifiuti, approvazione, piano finanziario anno 2018, determinazione e tariffe per l'anno 2018, imposta municipale propria, IMU, tributo per i servizi individuali, TASI, determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2018, verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e a quelle terziarie che potranno essere cedute, fissazione dei prezzi in cessione di diritto e di proprietà, approvazione e piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2018-2020, adempimenti di diritto allo studio e ad assistenza scolastica, concessione e incomodato d'uso alla croce verde-vadese del fabbricato di proprietà comunale ad uso autorimesse, ubicato in largo 11 gennaio 1946. Prende il via in provincia di Alessandria il terzo concorso scolastico istituito dal Veteran Car Club Bordino per diffondere la cultura del motorismo storico. L'iniziativa si inserisce nel programma degli eventi che l'amministrazione comunale intende realizzare in occasione dei festeggiamenti degli 850 anni della città di Alessandria. Alessandra della C. La città di Alessandria ha alle spalle un passato motoristico. Fu proprio il capoluogo di provincia, a cavallo fra le due guerre mondiali, ad ospitare, grazie al suo circuito, le prime gare di quella che poi è diventata la Formula 1. Il Veteran Car Club Bordino di Alessandria rilancia la fama del passato, invitando anche i più giovani a riflettere e lavorare sull'argomento. Pure in questo modo si recupera la memoria storica di una città che festeggia quest'anno 850 anni dalla sua nascita e che, sulle sue piste, ha visto sfrecciare grandi nomi dell'automobilismo, da Tazio Nuvolari ad Achille Varsi ad Enzo Ferrari. E così torna, per il terzo anno consecutivo, il concorso Il Bordino e la Suola, che coinvolgerà gli studenti degli istituti scolastici della provincia. Questo vuole di fatto essere un momento di accompagnamento e riflessione in vista del Grand Prix Bordino, che si svolgerà dal 25 al 27 maggio ad Alessandria. Presentato a Villa Guerci, il concorso sarà articolato in ambiti tematici a seconda dell'ordine della scuola partecipante. Gli studenti potranno cimentarsi in lavori di gruppo o singoli, attenendosi a differenti temi, in base al fatto che siano iscritti alle elementari, medie o superiori. I lavori dovranno essere inviati alla sede del Veteran Car Club Bordino, tramite posta raccomandata, oppure all'indirizzo info-p-bordino.com, entro e non oltre il prossimo 15 maggio. Il concorso sarà un'opportunità sotto diversi punti di vista. Il Veteran Car Club, Pietro Bordino, vuole andare oltre la semplice competizione motoristica, ma mira a diffondere la cultura del motorismo storico, coinvolgendo tutti gli attori del territorio, ha commentato Antonio Traversa, presidente del club. Gli eventi che organizziamo mettono in evidenza, oltre alle automobili, anche gli aspetti turistici, enogastronomici e culturali del territorio. Proprio da queste premesse nasce l'idea di rivolgersi alle scuole, cui proponiamo durante il periodo antecedente l'evento anche incontri con i membri del nostro club, per discutere temi e progetti concernenti la tematica automobilistica, per aiutarli a comprendere la storia dell'auto e della sua evoluzione negli anni, riflettendo, ha detto ancora il presidente, anche sugli aspetti della sicurezza, della comodità e del basso impatto ambientale raggiunto. Bene, tra poco nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana parleremo di mini volley con una grande festa di sport che ha visto l'arena Cento Grigio di Alessandria invasa da oltre 300 bambini. Poi le previsioni del tempo, noi ci vediamo a un'altra edizione. Grazie per aver seguito questa, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.